La leggendaria saga horror Non aprite quella porta, che narra le gesta della famiglia Sawyer e soprattutto di uno dei boogeyman più iconici del genere, Leatherface, propone un nuovo capitolo in 3D. Il film di John Lussenop si propone come una continuazione dell'originale del 1974 di Toe Booper. Heather riceve in eredità una grande villa in Texas da una nonna di cui ignorava l'esistenza e scopre di essere l'ultima discendente della famiglia Sawyer. Decide così di partire per Newt insieme ad alcuni amici per scoprire qualcosa di più sul suo passato, ma nei sotterranei della casa troverà un altro membro della famiglia che è sopravvissuto al massacro. L'idea era quella di rilanciare la serie, incentrandola sul personaggio di Leatherface e farlo assurgere da comprimario di culto a vero protagonista, magari rendendolo più complesso della semplice macchina slasher Sega Tutto, ma il tentativo interessante di umanizzarlo e di affiancargli una protagonista la cui sorte per una volta cambia da vittima a complice non rende giustizia alle intenzioni.